Cari amici, oggi c'è un articolo molto interessante sul Corriere della Sera, un articolo in cui si fanno i conti in tasca ai divi della cosiddetta trap, che sarebbe una forma di rap. In particolare è un trapper, il vincitore dell'ultimo festival di Sanremo, Mahmood, con la canzone Soldi. Il giorno seguente alla sua vittoria, che sia meritata o meno, lasciam perdere, c'è stata una grande polemica che non ci interessa, il giorno seguente alla sua vittoria, dicevo, abbiamo letto dei grandi commenti editoriali, strappalacrime, sul fatto che questa fosse una grande storia di riscatto sociale, era un ragazzo metà egiziano, metà italiano, che ha dovuto lottare nelle periferie di Milano e alla fine, nonostante il padre purtroppo l'abbia davvero abbandonato, ce l'ha fatta, è arrivato a Sanremo, ha vinto Sanremo giovani, ha vinto Sanremo, è tutto meraviglioso, ecco un esempio di integrazione multietnica che ha funzionato benissimo. Peccato che oggi dal Corriere dell'Economia, dall'inserto economico del Corriere, veniamo a sapere che se è effettivamente vero che Mahmood è stato abbandonato dal padre, di questo ci dispiace, è anche vero però che la famiglia della madre è particolarmente, una famiglia sarda particolarmente solida e infatti è proprietaria di innumerevoli bar, pizzerie e tabaccherie nel centro di Milano. In particolare il Corriere riporta che di recente la madre ha venduto una quota di una pizzeria molto famosa, molto vicina al Duomo, incassando 270.000 euro. E quindi questa grande storia di riscatto sociale semplicemente se la sono sognata i commentatori perché Mahmood ha sempre avuto i soldi, soldi, soldi.